Adesso, nelle prossime ore, scriveremo al commissario di Carige, cioè il commissario straordinario che sta amministrando in queste ore Carige, nominato dalla BCE, e gli chiederemo di rendere noto al governo l'elenco dei debitori di Carige. Che significa? Voi vi ricordate quando stavano fallendo le banche, tra cui anche MPS, c'era De Benedetti che non aveva dato decine di milioni di euro indietro dei mutui che aveva chiesto a MPS perché se li faceva dare in quanto De Benedetti amico del PD? Bene, noi adesso vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige e vogliamo vedere se ci sono delle coincidenze o dei legami politici o personali con gli amministratori delegati di questi anni. Perché? Perché chiederemo al commissario di promuovere l'azione di responsabilità sugli ex amministratori delegati di Carige, cioè quelli là che hanno gestito con il consiglio di amministrazione Carige e gli hanno fatto il buco di bilancio. Perché il buco di bilancio è una banca, è molto semplice. C'è quando? Quando una banca presta soldi a delle persone che non possono restituire quei debiti.